Il percorso di formazione permanente del clero di quest'anno prevede fino a Natale un intreccio tra temi teologici, pastorali e politici in senso alto che aiutino i sacerdoti a entrare con uno sguardo più articolato su problemi di tutti i giorni, sia per la vita pastorale che per la vita quotidiana di tutti, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, cercando di interpretare dei momenti, fenomeni che toccano tutta la nostra società. In particolare, dopo aver già vissuto una giornata molto interessante sulle riforme, i progetti di riforma costituzionale, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, incontreremo Mario Rosario di Costanzo, dirigente di banca, pubblicista, editorialista del mattino, che ci parlerà della legalità e giustizia, questa distinzione da tenere in equilibrio e da comprendere. Poi avremo più avanti Giovanni Grasso, un giornalista parlamentare di Avvenire, che sarà fra noi a trattare dell'impegno politico dei cattolici. Ma a questo percorso si accompagnano poi anche aspetti pastorali legati alla relazione tra Islam e Chiesa con la professoressa Livia Passalacqua, islamologa di Trento, e con Brunetto Salvarani, una personalità eminente nell'ambito del dialogo ecumenico, ma anche della biologia italiana ed europea. Sarà con noi per trattare il tema Ripensare la Chiesa nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale.